... Amici di Telecentro, buonasera. Ben ritrovati come ogni lunedì a Toscana Basket, parleremo di quello che è avvenuto e anche di quello che avverrà nel basket della nostra regione. Lo faremo con tre ospiti più che di rilievo. Comincio dal dirigente Federico Delia. Ciao Federico. Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Un amico del sottoscritto, un amico di Toscana Basket. Così come è un amico di Toscana Basket il tecnico della Gemma Montecatini, Marco Del Rey. Ciao Marco. Ciao Alessandro, un saluto a tutti. E anche poi abbiamo ospite qua con noi, Andrea Forti, un nome e una garanzia, ex giocatore di assoluto livello, adesso agente di giocatori. Ciao Andrea. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Assolutamente, ti sei fatto desiderare. Eh? Ti sei fatto desiderare. Eh, perché se no è troppo scontato. Eh, troppo scontato. Troppo scontato. Allora, fatte le doverose presentazioni, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione, andando a vedere quelli che sono stati i risultati di questa giornata, partendo ovviamente dalla Serie B nazionale, sempre sfruttando le bellissime grafiche che ci fornisce l'amico Stefano Regoli di Basket World Life e della consorella Toscana Basket World Life. Vedete, è un girone nel quale le Toscane vanno alla grandissima, hanno vinto tutte le cinque rappresentanti del Gran Ducato, aveva iniziato Irons, Montecatini, espugnando, battendo Legnano. Poi ha continuato la Libertas, che ha battuto agevolmente Caserta. La Caffè Toscano ha vinto in Brianza, una bella prestazione anche quella della compagine di Cardani. La Solbat ha battuto Fiorenzuola con un primo tempo fantastico, così come fantastico è stato il primo tempo della Giamma Montecatini di Marco del Re. Vedete le grafiche di Basket World Life in versione natalizia, vediamo anche la classifica. Arriva subito, eccola qua, vedete Irons in testa a quota 24, a 22 un terzietto composto dalle due Livornesi, Libertas Livorno e PL Livorno e dalla Giamma Montecatini, poi uno stacco di quattro punti al quinto posto, c'è l'altra Toscana, la Solbat Piombino, assieme a Crema, via via tutte le altre, chiude una nobile decaduta come Caserta, che ha soltanto due punti. Questi sono i numeri, adesso andiamo con le parole, partendo ovviamente, e non solo per dovere di ospitalità, dalla partita della Giamma Montecatini. Marco, una grande partita contro una squadra che, al di là della sconfitta con Fiorenzola dell'ultimo turno, prima aveva vinto sei partiti di fila, valla di Romenia. Sì, era sicuramente in serie positiva, vincendo sei delle ultime sette, ha perso, è vero, a Piacenza il turno precedente. È comunque una squadra di grande livello, con giocatori importanti, esperti, di talento e grande fisicità. Per noi è stata una buona partita, anche se a tratti un po' confusionari a livello di organizzazione offensiva e difensiva, qualche volta sotto ritmo, però è una partita che poi alla fine, diciamo, nel secondo quarto un po' si è decisa con i nostri 32 punti segnati e 59 totali nei primi 20 minuti. Nel secondo tempo chiaramente non abbiamo tenuto le stesse percentuali. Omenia ha provato sia a rientrare, ma diciamo riuscendoci poco abbiamo portato a casa una vittoria larga contro una signora squadra, secondo me. Andrea, Giamma è sicuramente la grande sorpresa di questo campionato, tu sei un grande esperto di basket a questa latitudine, ti aspettavi un così bel campionato della compagine di Marco, fai conto che Marco non ci sia? No, no, non è che devo regalare niente a nessuno, onestamente Marco sta facendo un gran lavoro, la squadra secondo me, anche se alcuni dicevano che poteva essere una sorpresa, secondo me è una buona squadra, costruita bene, ogni reparto ha dei giocatori interessanti, onestamente sta facendo molto bene, però considero la Gemma rispetto a quelli che erano i pronostici iniziali, una sorpresa, però da parte mia no, perché ero convinto che avessero costruito un bel roster. Marco e poi anche Federico, tra l'altro voi avete fatto questo straordinario campionato finora, dovendo fare a meno di Angelucci, che era il vostro quarto titolare, e dovendo rinunciare per diverse partite a un giocatore importante come Savero Mazzantini. Sì, diciamo che non siamo stati fortunati dall'inizio della preparazione, perché gli infortuni sono stati tanti, qualcuno più importante, Mastrangelo. Mi dicevi nel fuori onda che avete fatto cinque allenamenti al completo, correggimi se sbaglio. Dal raduno del 17 di agosto sono stati solo cinque gli allenamenti fatti al completo e nessuna partita né amichevole né di coppa né di campionato, quindi per me c'è ancora la curiosità di vedere come potrà giocare questa squadra veramente al completo. Ti dicevo, non è stato un inizio confortante dal punto di vista degli infortuni, non è proseguito bene dopo, perché prima Di Pizzo, poi Mastrangelo, poi Angelucci con l'infortunio più serio e più importante che lo sta tenendo fuori già da un po', e ultimamente Mazzantini che se non sbaglio era il terzo o quarto marcatore del nostro girone, ne abbiamo fatto a meno per tre partite e adesso sta rientrando e quindi ecco, ora cominciamo a vedere un pochino la luce visto che Angelucci potrebbe rientrare a febbraio. Senti Federico, poi entriamo nel merito e dentro la partita di Omenia, della quale abbiamo già visto qualche highlights. Premesso che siamo tutti d'accordo che Giamma è la grande sorpresa di questo campionato, la domanda che ti faccio va oltre. Dove può arrivare questa squadra quando sarà al completo? Magari anche con qualche inserimento in corso dopo, allora poi stuzzichiamo, Marco. Esatto, questa sarebbe una cosa interessante da capire, quali saranno le squadre e anche la Giamma che faranno qualche aggiustamento da qui alla fine del mercato di febbraio. Per me è una grande sorpresa, è una squadra solida che gioca bene, anche ieri quasi 9 giocatori in doppia cifra, 6 o 7 concretamente e un paio a 9. 6 in doppia, 2 a 9 e 1 a 8. Quindi questa è la cartina di Torrinasole del fatto di una squadra che gioca bene, profonda ed ha una fisionomia precisa. Detto questo, sorpresa sì per rendimento, concretezza e risultati, ma ha anche un buon roster, un ottimo allenatore e quindi ci sta che i risultati ottenuti fino ad oggi siano questi. Le ultime due giornate del girone di andata ci diranno molto, non solo su Gemma ma su tutto il campionato e poi vedremo dove potranno riuscire ad arrivare. Marco, l'idea è di fare qualcosa magari in posizione di 4? Sì, ci stiamo provando perché comunque mancando Angelucci e con altri vari acciacchi siamo stati quasi mai in 10 nell'ultimo mese e mezzo se non di più e quindi a livello di lavoro settimanale abbiamo pagato un po', fortunatamente non a livello di risultati e questo chiaramente ci ha aiutato ad andare avanti anche in condizioni un po' meno mate. Stiamo provando, stiamo provando a cercare un sostituto di Angelucci per il tempo che starà fuori e magari che poi rimanga anche con noi e vada in rotazione, ma lo stiamo facendo come abbiamo fatto durante l'estate, quindi cercando di trovare un giocatore funzionale a quello che è il nostro gioco, che possa inserirsi in uno spogliatoio che quasi da subito è stato compatto, unito e questo lo si vede anche in campo, lo si è visto anche in campo in tutte queste partite. Andrea, glielo trovi un 4? Glielo trovi un 4? Eh, lo sto costruendo. Un mercato abbastanza asfittico, bisogna capire quando si muoveranno un po' di giocatori e che va un po' a domino, per adesso però è un mercato abbastanza stagnante. Bloccato. Sì. Chiaramente poi la vostra squadra, Marco, sta facendo talmente tanto bene che sì, ok, un 4 ci vuole, però diventa anche difficile inserirlo in un meccanismo che funziona come un orologio svizzero. Sì, no, questo è il punto intorno a cui ruota il tutto, perché comunque ci sono stati offerti anche dei giocatori che abbiamo valutato, qualcuno non... Qualche nome ce lo fai? Faccio io? No, perché poi alla fine non l'abbiamo scelto, ma poi non rientrava probabilmente anche per una questione di budget o di amalgama con la squadra, però per ora si è mosso poco, come diceva Andrea, noi stiamo aspettando, stiamo continuando a guardare se riuscissimo a trovare anche un ragazzo giovane, come sembra ci sia venuto abbastanza bene, con Dell'Anna, Corniati e Pirani, che ci possa dare una mano e poi rimanere in rotazione sarebbe perfetto. Diamo un'occhiata a quello che è accaduto contro Omenia, ha avuto come diceva giustamente Federico, 6 uomini in doppia cifra, 15 di Corniati in 23 minuti, una grande sorpresa, sta facendo un campionato super, 12 di Pirani, 10 a testa di Passoni e Mastrangelo, 11 di Ripizzo e Mazzantini, due parole che vorrei spendere per Passoni che se non sbaglio è stato nominato MVP del campionato di novembre. Super Toriano Intanto è un ragazzo che ho conosciuto sette anni fa e che ho allenato per quasi sei anni, a parte la parentesi, vabbè, Piacenza solo metà anno e quella in cui era Montecatini in Serie C e lui è rimasto a Firenze. È un ragazzo incredibile dal punto di vista caratteriale e per me è giocatore fortissimo nel senso che si sa rendere utile sia in attacco che in difesa, è un uomo squadra, un uomo spogliatoio, sta crescendo e io che l'ho visto tra virgolette nascere quando era a Firenze l'ho trovato cambiato ogni anno e sempre in meglio, quindi per noi è giocatore importante come lo sono sì tanti altri, però è chiaro che potessi lo porterei ovunque. Da voi giudizio su Passoni Federico? Ha detto tutto Marco. Ha detto tutto Marco e non lo conosce nessuno meglio di lui, è un ragazzo seguito da... Finché era Marco Passoni tra la squadra. Ma sinceramente è stato anche vicino un paio di volte a venire anche a Livorno, quindi è un ragazzo che ha mercato, concordo, che è maturato nel corso degli anni, soprattutto come sicurezza di stare in campo nella parte offensiva lo vedo ancora più capace e più equilibrato di fare tutte e due le fasi del gioco. È stato sempre un difensore fisico e ora ultimamente, anche ieri credo che abbia giocato più di 30 minuti, 31 minuti, dovrebbe essere quello con il minutaggio maggiore su una squadra che, come abbiamo detto prima, è profonda o arriva a gestire tutti i giocatori e Passoni sta veramente facendo un grandissimo campionato, quindi c'è veramente da fare i complimenti. Andrea Passoni è un altro giocatore molto, molto bravo, ma non c'è soltanto lui. Secondo me sta facendo un grande campionato, al di là dei giovani di cui parlava Marco, sta facendo un grande campionato anche Saverio Mazzantini, nonostante qualche problema fisico di troppo. Ma Saverio è un buonissimo giocatore, ha fatto molto bene anche, quasi sempre, nei posti dove è stato, e è dinamico, ha grandi capacità di crearsi dei tiri e onestamente non è una scoperta. Dopo è logico che in questi casi, quando c'è un infortunio, magari la bravura dell'allenatore, della sua età, hanno fatto una squadra che magari sono riusciti a compensare l'assenza di Saverio, però è normale che quando rientrerà sarà una cartuccia in più per l'allenatore. Magari è un problema in più, forse. Perché vorrei averne questi problemi, no Marco? Non è un problema, veramente. C'è un messaggio sempre per Marco Del Re, dice il nostro amico, Marco, quanto ti brucia aver perso quei due derby in volata quando sembrava che li potessi portare a casa? Un po' chiaramente sì, perché giochiamo tutte le partite per vincere. La sconfitta sta nei giochi, è vero anche che abbiamo giocato con due squadre di altissimo livello e per buoni tratti di partita e fino in fondo siamo stati a quel livello. e quindi diciamo che dobbiamo vedere, questo deve essere il messaggio, che comunque ci siamo passati anche in spogliatoio, il bicchiere mezzo pieno, cioè essere competitivi a quel livello vuol dire che questo gruppo sta lavorando bene e che sta crescendo di settimana in settimana. E quindi ci prendiamo il buono e lasciamo lì, per adesso abbiamo lasciato lì due punti, vediamo se più avanti riusciamo a riprenderceli. C'è un altro messaggio su questo, sono un tifoso di Irons, Giamma sta facendo un grande campionato ma noi siamo più forti, ma questo chiaramente è un'idea sua, effettivamente è quello che dice anche la classifica finora, no Federico? Così poi ci agganciamo anche alla partita di Irons. Sì, quello che dice la classifica, quello che dice il campo, quello che dicono i risultati, non scordiamoci però che in queste ultime due giornate avranno un calendario complicato, forse uno di quelli più difficili delle prime squadre. Sabato c'è Irons, PL, tra l'altro è arrivato il comunicato di Irons, c'è già la possibilità di acquistare i biglietti per la grande sfida contro la compagine di Marco Cardani. Sì, è l'ultima a crema mi sembra. Sì, mi pare. Ok, quindi vediamo come finisce questo giorno di andata che poi, come sappiamo, apre le porte anche alle finali di Coppa Italia per la Serie B, quindi ci sarà veramente interesse per capire quale sarà lo sviluppo di queste partite, di cosa farà Irons e crea interesse anche per quella che sarà la fine del campionato, perché tutti questi incontri, che ci sono scontri fra le prime della classifica verosimilmente accadrà anche a fine campionato, a fine della stagione regolare, quindi sarà veramente interessante. La sceneggiatura sembra sia scritta da un maestro del thriller, perché Libertas-PL all'ultima di campionato, poi PL-Irons alla penultima, insomma, ce ne sono veramente di partiti importanti. Irons che ha vinto in trasferta, ha vinto a Legnano, sto soffrendo nel primo tempo perché era sotto 7 all'intervallo lungo, poi l'ha ribaltata negli ultimi 20 minuti. Barsotti, ecco qua, abbiamo gli alaizi anche di questa partita, ha portato 5 uomini in doppia cifra, con Carpanzano a 14, Arrigoni a 18, che ha giocato una gran partita, 5 su 9 da 2, 1 su 1 da 3 con il gustoso contorno di 9 rimbalzi. Lorenzetti 13 in 18 minuti, ma durante la partita è uscito per un problema, se non sbaglio, alla caviglia. Mancava Chiara, quindi alla luce di queste assenze, Andrea, due punti importanti. Contro Tegnano che è una buona squadra. Sì, l'Irons è una buona squadra, penso che abbia tanti giocatori, l'hanno dimostrato anche nelle ultime giornate, mancando Chiara, però onestamente hanno fatto dei risultati abbastanza importanti. Secondo me proveranno ad entrare sul mercato, vediamo. Anche loro? Eh sì, perché loro magari questa assenza... Ma Chiara dovrebbe entrare a inizio anno? C'è stato anche un comunicato, si era sparsa la voce che fosse fuori per diversi mesi? Sembra che sia un po' meno, però... Sembra sia un po' meno, sì. Conoscendo un po' le ambizioni che hanno l'Irons. Sembra ambiziosa che non ho... Sì, poi quello che mi viene da pensare è che è proprio questo che si è creato quest'anno con le due di Montecatini e le due di Livorno. È una cosa strana, ma bella, perché ognuno tira quell'altra. Certo. Senti Marco, voi con l'Irons avete giocato qualche settimana fa una compagine lunga, una compagine ricca di talento, una compagine esperta. Sì, non gli manca niente. Nel senso che a livello di talento, fisicità, esperienza non gli manca niente. È, come magari mi è capitato di già dire altre volte, sicuramente una delle favorite al passaggio di categoria. Le altre due ritengo siano Libertas e Piel che hanno roster importanti e che stanno facendo bene. È una squadra che per adesso ha dimostrato il suo valore e quindi è giusto che sia davanti a tutti. Ha vinto partite a volte anche complicate e per adesso stanno dimostrando sul campo quello che valgono e quelli che potevano essere pronostici anche della vigilia del campionato. Fedico, tra l'altro vincere a Legnano non è mai semplice, ha maggior ragione dopo aver chiuso il primo tempo sotto sette. Non è semplice, è un campo difficile ma è anche vero che questa è una delle caratteristiche di Irons nel senso che succede parecchie volte che parte non piano perché poi sappiamo bene che l'aggressività, il tenere alti ritmi e il marchio di fabbrica tante volte parte piano e poi nel corso delle partite riesce a ribaltarle. Così ha fatto anche contro Legnano un campo sul quale non è facile vincere contro una squadra che è indietro in classifica che sta facendo fatica e proprio per questo motivo qui è sempre complicato riuscire a portare a casa i due punti. Tra l'altro Irons ha tirato benissimo da tre punti 8 su 17 che corrisponde al 47%, un po' meno da 2,48. C'è un giocatore che a me piace tantissimo di Irons vale a dire sgobba, Andrea. Giocatore che a questi livelli fa la differenza e quest'anno sta ancora facendo più forze di quello che ci si aspettava. Sono parte in cauda, visto che lo stiamo... Mi devi una scena? No, sta giocando molto bene. Allora ti gira la domanda, sei contento di quello che stanno facendo? A differenza di anni passati è molto continuo che era un po' il suo tallone da kill perché Giorgio avrebbe tutto tecnica, fisico anche per stare magari categoria superiore il difetto era sempre quello che un po' si accontentava ed era molto altalenante. C'è un messaggio che voglio leggere non è strettamente legato all'attualità vi ho già scritto la scorsa settimana non mi avete risposto volevo sapere da Marco visto che è un allenatore perché in questo basket moderno si cambia sempre e comunque in difesa ovviamente. Sono scelte sono scelte di ogni singolo allenatore noi per esempio non lo facciamo spesso perché abbiamo... La tendenza in generale Marco è quella di cambiare quasi sempre Sì, per disinnescare magari blocchi o situazioni tattiche è chiaro che devi avere la squadra costruita per farlo nel senso che cambiare con un lungo di 2,16 non mobile contro un piccolo può diventare controproducente quelli che lo fanno probabilmente lo fanno perché hanno costruito un roster che gli consente di provare a fare questo tipo di difesa che comunque è attaccabile in altri modi richiede magari quel briciolo di attenzione in più nella ricerca dei vantaggi però ti ripeto sono scelte personali capita sempre più spesso E come la vedo io poi chiaramente faccio giornalista e voi siete i tecnici se te hai contro una squadra che cambia sempre se attacchi con condizioni di causa hai sempre un mismatch questo è un dato di fatto Sì, è il bello anche di questo sport perché comunque qualunque tipo di difesa tu possa presentare contro tutte le squadre che incontri le partite non finiscono mai 0-0 e c'è sempre una soluzione che può essere trovata è un gioco di vettura è un gioco di vettura e quindi se c'è la pazienza e le capacità per attaccare un tipo di difesa di quel tipo chiaramente puoi trovare vantaggi però dipende anche da come lo fai se lo fai in maniera passiva probabilmente non la porterai mai a casa se lo fai in maniera aggressiva e provi a organizzare anche eventuali rotazioni o ridurre mismatch in qualche modo può pagare anche buoni frutti Ai tuoi tempi Andrea tu hai giocato a altissimi livelli non si cambiava? O si cambiava poco? Cambiava poco Molto poco Sai ora è completamente diverso perché è quasi un altro sport Andrea Io dico sempre ogni età è uno sport diverso quando giocavo io dicevo che quelli che avevano giocato prima non erano atletici adesso logicamente noi non erano atletici ma è il progredire della società dello sport è normale che quando cambi adesso fisicamente e atleticamente tante squadre sono molto dotate quindi come diceva Marco i lunghi hanno facilità nel difendersi piccoli devo anche dire che tante volte però si approfitta anche un po' perché c'è poca gente che sa passare la palla vero quindi quando fai il cambio vuoi andare al mismatch o vuoi fare la lettura ci vuole un giorno e mezzo per metterli a posto e in 24 secondi se ne sono andate allora bene fatta aperta e chiusa questa parentesi di tattica pura andiamo a parlare della bella vittoria della PL in trasferta sul terreno di sul parchè di Monza Brianza a 68 a 64 qui l'ha decisa ecco qua Gialaiz l'ha decisa Chiarini che ha avuto una fiammata nel terzo quarto da 14 punti consecutivi e un assist che ha spaccato la partita Federico la PL arriva da 4 vittorie consecutive è stata brava a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive una brutta Montecatini proprio con Gemma e adesso ripropone forte la sua candidatura per un posto tra le due che andranno alle final senza dubbio la sconfitta senza Campori tra l'altro la sconfitta contro Gemma è stata brutta nel risultato ma secondo me non nella partita in se stessa perché Gemma ha giocato molto bene e venendo a ieri sì Chiarini è stato nuovamente decisivo come sta facendo da inizio campionato c'è stato un momento in cui ha avuto una piccola flessione probabilmente più fisica atletica che altro e poi perché le squadre avversarie hanno imparato un po' a conoscere le sue caratteristiche individuali ma ora sta di nuovo tornando determinante nelle ultime tre o quattro partite dove ha dimostrato di essere un giocatore di squadra non da statistiche riesce ad arrivare al ferro come pochi altri gioca al pick and roll meglio secondo me di quando è arrivato in Italia specialmente reggette per andare a sinistra lo fa lo fa benissimo e è stata una vittoria importante perché era difficile portarla a casa una vittoria di squadra dove anche Pagani per dire ha fatto una buona prestazione anzi una buonissima prestazione facendo un veloce parallelo con quanto diceva Andrea su Sgoba un altro ragazzo che non sempre riesce ad essere continuo ma quando riesce ad esserlo tante volte è determinante sì proprio sulla coppia di lunghi Pagani di Uff volevo porre l'attenzione al di là della straordinaria prova di Chiarini in due hanno messo insieme 29 punti e 14 rimbalzi giocando 23 minuti Pagani e 22 di Uff Marco e poi Andrea se i lunghi della PL alzano di livello questa diventa una squadra veramente a livelli altissimi sono d'accordo con te ma mi sembra ne avevamo parlato anche quando la prima volta in cui sei venuto qua sì sono due lunghi che hanno caratteristiche diverse diversa fisicità diverso atletismo però hanno grandi capacità sia dal punto di vista offensivo che difensivo in modi diversi perché Pagani è uno tosto da spostare se ci devi attaccare contro di Uff è talmente verticale che te lo puoi trovare seduto sul ferro e quindi si possono alternare possono giocare insieme perché spesso hanno optato anche per l'opzione di Diuf da 4 e Pagani da 5 sono sicuramente due lunghi ben assortiti di altissimo livello che possono chiaramente essere determinanti man mano che la stagione si farà un pochino più complicata c'è un paio di messaggi ci sono meglio un paio di messaggi sulla situazione della PL volevo sapere come sta Campoli dice il nostro amico dovrebbe essere influenzato quindi niente di che poi c'è un altro messaggio vediamo se riusciamo a aprire l'ho visto prima ci chiedeva qualcosa sul team manager PL Federico sai qualcosa no non so niente di particolare aspettiamo comunicazioni della società perché sono cose magari delicate quindi aspettiamo le comunicazioni ufficiali poi sempre sulla PL saremo perlomeno in 500 a Montecatini il pubblico e poi andiamo a parlare anche di Libertas Marco è importante della PL no fra l'altro c'è un gran seguito anche a Montecatini tra l'altro sì però non così chiaramente Montecatini non è Levorno non è paragonabile il pubblico PL è chiaramente il più numeroso il più caldo che puoi trovare non solo in questo girone nell'altro e forse anche in tanti palazzetti tra uno e a due riesce chiaramente a essere il sesto uomo in campo sia in trasferta che in casa chiaramente uno stimolo in più anche per i loro giocatori averli sempre al seguito e con quella passione che comunque ci mettono tutte le volte bene da una rivollese all'altra dalla PL alla Libertas da una squadra vittoriosa la PL a un'altra che ha portato a casa i due punti vale a dire appunto la Libertas la Libertas che senza Tozzi e Saccaggio ha battuto abbastanza agevolmente Caserta soffrendo soltanto nei primissimi minuti Caserta era partita 7 a 1 poi la Libertas ha messo il naso avanti 36 a 32 all'intervallo lungo e poi ha dominato nel secondo ecco abbiamo qualche immagine nel nel secondo tempo una Libertas Andrea non scintillante perché Caserta veramente mi ha fatto una brutta impressione io ho visto la partita però era importante tornare alla vittoria dopo la sconfitta non ho visto la partita non posso magari giudicarla però era importante vincere in questo momento cioè perdere queste queste sono le partite un po' tra bocchetto sì che tra bocchetto e soprattutto quando vai a giocarlo è anche in trasferta che sono partite che devi vincere la cosa importante è che la Libertas ha mantenuto dal punto di vista difensivo la mentalità giusta perché è un marchio di fabbrica di questa squadra e pur con due assenze importanti ha potuto far giocare anche altri ecco vediamo anche quegli highlights Federico la Libertas l'ha vinta e non la prima volta sotto le planche prendendo 10 rimbalzi in più di Caserta sì è stato fratto scusami poi ti restituisco la parola ha preso più del doppio dei punti realizzati quanto al rimbalzi 13 rimbalzi e 6 punti allora sono squadre di livello sicuramente diverso studiato in fase di progettazione e nella realtà di fatto hai detto questo è stato bravo Andreazza secondo me nel preparare presentare la partita da allenatore esperto perché si sa che sono proprio queste le occasioni nelle quali è facile fare un passo falso se non si affronta la partita con la giusta concentrazione e determinazione poi come diceva Andrea mancavano due giocatori importanti come Tozzi e Saccaggi però non si è visto anzi c'è stata anche la possibilità alla fine di far giocare qualche ragazzino ma lei è entrato già nel primo tempo sì Vincenzini poi ha fatto un assist straordinario complimenti a Nicola grande assist salutiamo il padre che è il vice allenatore del Cuspisa che non riusciamo a portare in trasmissione lo stiamo circuendo ma non per chiudere per chiudere il discorso era un passaggio determinante per arrivare a queste due partite che sono ben più importanti e con grado di difficoltà diverso quindi Legnano la prossima e il derby il 7 gennaio esatto esatto quattro uomini in doppia cifra 12 Lucarelli 10 Barinesi 11 Ricci e Williams due parole Andrea te le chiedo su Williams 11 punti per la prima volta in doppia cifra 6 assist e 3 su 4 da 3 punti sta fai apposta è certo infatti ce l'ho tutto forse ne hai te oppi hai tu anche il chiarini come te l'hai anche quello hai tu anche il chiarini è pure no Lion sta onestamente sta giocando bene ha ritrovato un grado di forma tra parenti ho convocato una nazionale olandese che ho convocato una nazionale olandese ha capito magari anche le dinamiche del gioco qui in Italia perché non era facile giocava in maniera un po' diversa e sta trovando continuità e onestamente sta facendo bene soprattutto una squadra dove sono tanti giocatori che vogliono da palla senti Marco una pillolina sulla libertà se voi ci avete perso qualche settimana fa che impressione hai avuto della squadra di Marco Andrea una squadra sicuramente solida anche lì grande fisicità perché Fantoni fratto Lucarelli da esterno che è un toro che ho avuto la fortuna anche di allenare sono costruiti bene sono allenati bene una squadra che ha talento fisicità l'esperienza può far fatica magari o può aver fatto fatica con le settimane da turno infrasettimanale con qualche giocatore perché comunque anche Tommy per quanto forte è la carta di identità non mente anche se è sempre un giocatore di altissimo livello però hanno attraversato un periodo non felicissimo ne sono usciti sfortuna per noi la settimana prima di venire a Montecatini quindi è sicuramente una delle favorite come ti dicevo prima al salto di categoria o a provare a giocarsela fino in fondo tra l'altro Federico Andreazza ha allungato le rotazioni perché Buca trova diversi minuti Tozzi è diventato un elemento imprescindibile a linea entra in quintetto insomma una squadra che si pensava fosse un briciolino corta una squadra adesso dove giocano 9 assolutamente poi fra poco rientrirà anche Francesco almeno come sta? sta bene è tuo? no tra poco dovrebbe siamo a fine mese dai ci siamo per il derby eh non so il derby il derby è una partita delicata e considerando che è parecchi mesi che è fuori bisogna valutare bene però siamo vicini la carica ce l'ha perché non gli manca va tenuto a freno no in ogni caso è vero sta usando il roster fino in fondo Alinei in quintetto è una grandissima risposta un ragazzo che sta giocando bene non soltanto come giocatore sulle sulle uscite o aspettando gli scarichi in angolo ma anche giocando off ball facendo tagli senza palla veramente cresciuto tanto quindi sì è un roster come diceva cocedere qui accanto che ha tutto profondo e tutto il resto e vediamo vediamo bene vediamo nel frattempo vediamo la vittoria di Piombino che riscatta il brutto capo di Cassino battendo 74 a 68 Fiorenzuola partita che Piombino ha dominato nei primi due tempi 48 a 32 all'intervallo lungo poi Fiorenzuola si è riavvicinata ma Piombino l'ha portata a casa dominando sotto le planche 42 a 37 troppe palle perse di Piombino Andrea anche qua abbiamo gli Alites 21 palle perse sono un po' nel DNA di questa squadra che gioca a mille all'ora però 21 sono troppe sì sono tante però come dicevi te è un po' la palla canestro che loro sono abbastanza offensivi rischiano a volte dei contropiedi però onestamente proprio nelle caratteristiche anche di alcuni giocatori che hanno secondo me stanno facendo anche molto bene senti ma Piccone è tuo? no allora ti posso fare la domanda perché sennò sembrava tra un po' dovrebbe rientrare De Zardo poi Venucci insomma Turella sì cioè la squadra che anche questa regione di ritorno insomma potrà se ha una fisionomia completa rientrano tutti bene potrà essere una squadra importante super prova di Piccone non è non è la sola 26 con 6 su 11 da 2 3 su 8 da 3 bene anche al Manzi con 14 di cui 12 nel primo tempo Marco tu Piombino ci hai giocato recentemente ci ha fatto una gran partita è una squadra bellissima da vedersi perché ho visto Piombino PL Piombino è stata una partita bellissima è una squadra che può battere chiunque soprattutto se è ingiornata sì dal punto di vista offensi sì è una squadra che gioca a ritmi altissimi che comunque ha qualità negli esterni più berra come lungo si è dimostrato si è dimostrato veramente un lungo interessante solido ha capacità di segnare con tutte e due le mani bravo a giocare in avvicinamento al canestro diciamo che è la loro boa dentro l'area e poi tutto il gioco si sviluppa sull'arco dei tre punti però è una squadra che se lasci correre è possibile che anche ti faccia fette perché ha grande qualità e sono allenati per giocare in quel modo e quindi si sentono a casa se hanno spazi da attaccare in rapidità e con grande velocità dall'altra parte magari noi per esempio siamo stati bravi siamo riusciti a non farli correre così tanto prendere un buon margine poi è vero che sono ritornati sotto verso la fine della partita però diciamo che il nostro lavoro è stato migliore prima di arrivare al quarto quarto lì probabilmente abbiamo un po' staccato e loro hanno dimostrato comunque di essere una squadra viva che gioca sui 40 minuti non mi aspettavo sinceramente la sconfitta del turno precedente a Cassino e con quel divario quello sì senti tra l'altro tutti gli allenatori che giocano contro Piombino Marco ne ha buon testimone tendono a rallentare il ritmo ma pochi ci riescono secondo te perché Federico perché ti trascina quel vortice è complicato è una squadra che gioca bene secondo me sono loro la vera sorpresa del campionato ma veramente rispetto a quanto meno fosse la mia idea iniziale hanno avuto anche loro tanti infortuni nonostante non ci fossero giocatori con uno storico ingiuri particolare da legittimare quello che è successo invece stanno continuando a giocare bene e perché non vengono abbassati i ritmi perché l'altro lato della medaglia di questa squadra allenata benissimo è il fatto che difensivamente fanno parecchia fatica figlia delle palle perse ma anche per il fatto che hanno difficoltà a proteggere il ferro e quindi Berra buonissimo veramente buonissimo ma non è un grande protettore dell'area e anche qualche esterno che in attacco veramente gioca in maniera eccezionale piccone penso che sia sui taccuini di tutti magari un ragazzo che non ha una grandissima taglia rispetto a quello che riesce a fare di Cezana in attacco al Manzi lo stesso quindi loro devono cercare il loro equilibrio e le squadre avversarie sono portate a abbassare i ritmi ma a volte non è così sconveniente continuare ad attaccare a ritmi elevati allora per concludere il discorso per quanto riguarda la B nazionale c'è questo messaggio seguo da vicino il girone B e ci sono almeno 5-6 squadre superiore alle prime 4 del girone A i campi difficili sono nel girone B nel girone A non è vero che Legnani è un campo difficile perché giocano in campo neutro così come giocano in campo neutro o meglio a Benareggio questa è una chieda a te una pillola è vero che il girone B sia per qualità sia per ambiente è superiore al girone A sembra di sentire i discorsi che facevamo lo scorso anno ogni anno si fa il girone no il girone sud A, B, C, D poi alla fine io penso che mediamente questo girone ha squadre che possono vincere con chiunque tolta forse Caserta che in questo momento è proprio nel è messa male vista ieri molto molto male però la stessa Salerno che è messa male cioè onestamente ci sono squadre difficili da giocare poi i campi toscani onestamente dall'altra parte Roseto Roseto trovi però ecco poi anche dall'altra parte tra Ruvo Mestre Roseto Fabriano però io penso anche che veniva a giocare in Toscana o adesso quando vai a giocare a Omegna o la stessa a Legnano che secondo me il girone di ritorno farà anche lei degli inserimenti insomma sia abbastanza complicato bene noi ci fermiamo linea della regia scendiamo di categoria andiamo a parlare di B interregionale e poi di serie C linea della regia torniamo subito Noi nello studio immobiliare Melani Case da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare dei nuovi province da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo a fianco del cliente dalla visita dell'immobile al roccio di notarie facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla contravendita stessa vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza TS21C Dentisti il sorriso massima professionalità impegno e qualità a vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti addette alla segreteria Dentisti il sorriso il sorriso amico a bianco del cittadino Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione basta rivolgersi alla carrozzeria Marsili i titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro Carrosseria Marsili a Livorno in via Cessioni 59 telefono 0586 40 9640 Livorno 24 Livorno 24 Livorno 24 Livorno 24 Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente Il giornale online che ci appartiene Livorno 24 www.livorno24.com Più o meno Consulenza Energetica Agenzia Leader nel settore luce e gas Operiamo Volture Subentri Cambio Fornitore e Telefonia Chiama Marco per una consulenza gratuita Bene, rientriamo nel frattempo ci sono arrivati diversi messaggi allora leggiamo velocissimamente risposte veramente molto brevi perché siamo in ritardo Buonasera vorrei chiedere a Andrea Forti cosa manca alla Libertas per andare in Saria Beh, bella domanda forse un giocatore un giocatore che nei momenti decisivi prende la palla e toglie un po' la cristallina del fuoco Poi, salve questa è una considerazione mi dispiace che Alessandro Fantozzi non abbia nessun ruolo nella Libertas perché lui è la Libertas e poi quali sono secondo voi le due favorite per andare alle Final Four voglio solo due nomi perché devo correre Federico Irons e Ruvo No, nel giro di Toscano Irons Irons non posso dirige ma perché c'era accanto mi guarda male ma per un discorso del calendario è una partita difficilissima ora Avellino perché Avellino è buona molto più buona di quanto è Dica la classifica però dico Irons e Giama Marco vai fatti vai passo perché sei parte in casa No, ma ti posso dire per me Irons e Libertas ma c'è il derby di mezzo perché quella è la partita che poi alla fine deciderà chi va su Pariglia Per me sono quelle poi c'è anche Irons PL è talmente difficile che se ci vado se poi se poi scappa sono contento Andrea è difficile difficile no tu hai giocatori in tutte e quattro presumo no ma ci vado in ogni caso ci vado però non ho idea se Irons e Gemma così almeno non prendo gli insulti no perché se dico PL poi dopo dico ecco è gufa perché dopo allora allora poi dice un nostro amico arriverà presto un rinforzo per Irons ce lo dice saluti Andrea Andrea ti è mandato tu? no non ho mandato nessuno allora andiamo alla serie B interregionale andiamo a vedere prima di tutto i risultati sempre con la sigletta dei nostri sponsor che non fideremo mai di ringraziare perché sono anche loro che rendono possibile l'effettuazione di queste trasmissioni vai con i risultati i risultati della serie B interregionale sono offerti da Time Out Sport Lab eccoli qua i risultati questo è un gelone quasi tutto toscano c'è la bella vittoria di Quarrata su Arezzo quella di Empoli nel derbissimo contro San Mignato poi Cecina a sorpresa questo è veramente un risultato non sorprendente di più perde in casa con il fanalino di coda Castelfiorentino Leinaia batte Lucca e poi la Stosa Virtusiana batte una rimaneggiatissima Spezia vediamo anche la classifica sempre con i nostri sponsor arriva subito questa non è la classifica questo è un brutto ceffo ragazzi ha detto il regista che sono un brutto ceffo lo confermi vero? dai fammi vedere questa classifica va allora intanto quando è pronta ve lo dici dai nel frattempo abbiamo detto della ce l'hai? della la classifica della serie B interregionale è offerta da Mobilificio Paretti arridamento di interni eccolo qua sembrava no questa è la serie B nazionale la serie B interregionale Ale l'altra schermata quella comunque ve l'anticipo ci sono Ale la B interregionale questa è la B nazionale eccola qua vedete Cecina e Virtusiana in testa quota 20 Empoli a 18 e poi queste tre sono non dico certe ma parecchie avanti nella corsa al playing gold e poi c'è grande lotta per il quarto posto ci sono 5 squadre a 14 punti e poi via via tutte le altre chiude Castelfiorentino allora la grande sorpresa Federico la incredibile vittoria di Castelfiorentino c'è Cina la Vintassiana 5 vittorie consecutive e poi si è inceppata proprio contro la squadra di Angiolini è il bello del basket è il bello del basket è una grandissima sorpresa ma ne abbiamo viste tante no? nel corso degli anni partiti di questa tipologia qui quando prima parlavamo della Libertas e di Andreazza che era stato bravo a tenere alta l'attenzione proprio perché queste cose possono accadere non che Cicina non abbia preparato bene la partita come sempre fa benissimo da Prato però sono cose che possono accadere e sono anche la fotografia di un campionato e di un girone che alla fine è di alto livello perché Castelli Fiorentino ha pochissimi punti però può l'abbiamo detto qualche settimana fa il Fiorentino ha battuto Empoli e Caccia esatto quindi chissà se questo è l'inizio di una risalita ci sono le prime tre squadre che ci avete che sembrano veramente un passo avanti a tutte le altre e poi tante che possono lottare per per aggiungersi per me chi è che sta facendo meglio di tutti o come sorpresa rispetto a quello che immaginavo io Legnaia che anche ieri ha fatto l'ennesima super partita e ha portato a casa altri due punti importanti quindi complimenti entriamo dentro la partita di Cecina con Castello che ha tirato benissimo da tre punti con il 58% 28 di Nepi con 10 su 16 21 di Belli con 5 su 8 nelle triple Scali 16 3 su 5 nelle triple Pucci 20 2 su 2 nelle triple Nanni Pieri 11 1 su 1 nelle triple Marco quando tiri con queste percentuali da tre punti è più facile diciamo che aiuta no sicuramente allora Castello è la squadra che fin qui ha prodotto meno rispetto a quello che tutti ci aspettavamo ha comunque un roster anche lì importante con giocatori capaci di segnare in tanti modi tirare con quelle percentuali lì chiaramente aiuta a vincere la partita perché comunque un tiro da tre punti segnato con continuità taglia un po' le gambe alla difesa della squadra che prova a recuperare quindi merito a loro che hanno sono riusciti in questa impresa per Cicina 21 di Bilovic 19 Turini 14 Pistillo 13 Pistolesi 10 Mazzantini non sono bastati Andrea da Prato i 5 uomini in doppia cifra la sconfitta costa a Cicina l'aggancio da parte della Virtusiana che batte 84 a 67 Spezia Spezia che però era senza Rajacic e Sakalas e quindi per tutto il primo tempo poi se ne allunga anche senza mai uccidere il match anche qua decisivo Andrea il tiro da tre tu eri uno bravo in quel fondamentale 10 su 17 per Siena 2 su 24 per Spezia i due pauli che di solito ne mettono sempre tantissimi in coppia meglio in famiglia 0 su 16 vabbè il tiro da tre è la chiave del palacanestro di oggi ancora di più di quella di una volta perché la maggior parte delle squadre tirano tantissimo da tre è logico che se fai tanto canestro da tre hai più probabilità di vincere ti ho dato una spiegazione furba matematica statistica c'è un messaggio dice il nostro amico attenzione a Spezia quando sarà al completo darà fastidio a tanti sono d'accordo sono d'accordo perché ha avuto tanti infortuni Rajacic e Sakalas sono acquisti importanti entriamo nel vivo della partita Siena 17 di Diminic e Calvellini 14 di Lombardo di là 15 di Carpani e di Filippo Paoli 14 di Tintori Tintori che sta facendo un buon campionato concordi su Spezia come possibile minore vagante del ritorno? assolutamente sì perché comunque a parte sono sempre stati bravi a trovare stranieri di buonissimo altissimo livello all'est hanno una serie di spiene sono maestri in questo secondo me potrebbero anche fare consulenze anche per società di A2 o Serie A perché in questo sono sempre stati bravissimi hanno avuto problemi è una squadra che comunque negli ultimi anni si è sempre giocata alle prime posizioni sono convinto che al completo possono sicuramente dar fastidio a tutti bene così come chi può dar fastidio a tutti a Empoli che batte 63 a 59 nel derbissimo San Mignato San Mignato che pure aveva iniziato bene chiudendo avanti di sei il primo quarto e quattro all'intervallo lungo poi Empoli aumenta l'intensità offensiva perché aveva segnato soltanto 25 punti nei primi 20 minuti e soprattutto vince la lotta sotto le planche per 39 a 32 San Mignato tira di più ma con peggiori percentuali Empoli la spunta nonostante 23 palle perse 16 di Rosselli 14 di Mazzoni 12 di Giandone per Empoli 17 di Giovanovic 14 di Menconi 13 di Lovato per San Mignato che è alla quarta sconfitta consecutiva Empoli Andrea è una squadra che secondo me per roster magari è un pochino corto però può competere con quello di Stosa Virtusiana e Cessi sì sicuramente può competere ma hanno fatto una squadra giustamente ci sono anche tanti ragazzi giovani con la chiosa di Rosselli però è una squadra che fino alla fine si giocherà per arrivare nelle prime quattro cioè per stare nelle prime quattro logico che con questa formula è importante sono importanti gli sconti diretti perché poi i punti che hai e li porti dietro nella seconda fase nella seconda fase dove giocheranno con la Lombardia esatto esatto poi un'altra squadra che aspira alle prime quattro piazze è Quarrata che ha battuto 79 a 68 Arezzo seconda di fila per Quarrata mentre Arezzo perde dopo due vittorie di fila per quanto riguarda la partita è stata in equilibrio fino all'intervallo lungo poi Quarrata è scappata via con 14 a 7 nel terzo quarto Quarrata porta 5 uomini in doppia cifra con Tiverti a 19 in doppia doppia 14 di Molteni Antonini 13 di Regoli che tira poco ma tira bene 4 su 6 12 di un ritrovato Mustiazia di là 18 di Zocca ma con 8 su 18 al tiro 15 di Daniele Rossi 13 di Pelocchini 11 di Giandicelli Quarrata è una squadra che era partita bene poi si è un po' bloccata adesso è ripartita Marco un giocatore che tu se non sbaglio hai avuto come Molteni a Montecatini due anni fa non lo ricordo bene si si sono studiato vero no comunque anche lì un roster importante è costruito bene è la partita molto bene ha attraversato un momento di appannamento ora stanno tornando sui livelli dell'inizio intanto sono contento per Tommy che saluto perché è giocatore di grande talento e si merita tutti i buoni risultati che sta facendo è una squadra che come comunque sta dimostrando questo girone può giocare e vincere con tutti come ce ne sono tante altre anche in questo abbiamo un girone abbastanza equilibrato la testimonianza è Castelfiorentino in fondo con una squadra importante che per una magari ha espresso meno di quello che è ha tagliato Marchi in settimana si già al secondo taglio mi sembra gli straniari che stanno facendo qualcosa a Castelfiorentino si stanno cercando onestamente il ruolo abbastanza vicino a Canestro 4-5 poi vince anche Legnaia anzi una parolina diciamola anche su Arezzo è una squadra che non ha tantissimo talento ma che comunque non è mai semplice da battere Federico non è nata molto bene da Marco Evangelisti certo Marco è un nome gettonato Marco Del Re Marco Andreazza Marco Cardani adesso Marco Evangelisti è un nome gettonato per prendere l'attore devo chiamare Marco allora si lavora dicevi giusto è una squadra che un po' di fatica la fa però combatte sempre gioca tutte le partite a viso aperto con il giusto atteggiamento poi bene Legnaia che batte 72-58 Luca e aggancia il drappello al quarto posto una partita indirizzata dal 17-7 del secondo quarto Legnaia ha dominato sotto le planche 41-31 portando altresì 5 uomini in doppia cifra con 16 Sacchellario 5 su 11 dal campo Del Secco 14 con 6 su 7 dal campo 13 Corubini 12 Nicoci 10 Di Merlo di là 12 Lippi e Barsanti ma con Barsanti 4 su 13 da 3 11 di Simonetti che è un giocatore che a me piace tantissimo due squadre che lotteranno Andrea secondo me fino alla fine per arrivare tra le prime 4 Sicuramente è un campionato abbastanza difficile perché dipenderà tutti come al solito soprattutto questa tipologia di squadre con questo tipo di campionato quando arrivi da febbraio in poi perché è un campionato molto equilibrato e bisogna vedere in quel momento le squadre come saranno dal punto di vista di infortuni e di preparazione fisica perché sono squadre molto equilibrate che può cambiare poco cioè io penso che arriveranno anche nel girone di ritorno sarà una classifica simile per quel tipo di squadre C'è un messaggio per te vorrei chiedere a Andrea Forti se secondo lui le squadre che incroceranno le Toscane nella seconda fase sono più forti Saronno Pavia ah quel girone Lombardo è un girone posto come sempre ma la stessa cosa la dicono loro della Toscana perché poi si guarda sempre in questa maniera si guarda sempre bicchiere mezzo pieno per gli altri ma secondo te dov'è la verità o non c'è la verità e poi si vedrà quando giocano Pavia è una buona squadra è anche la stessa Saronno però conoscendo anche magari i proprietari delle squadre toscane potrebbero fare qualcosa nel giorno di ritorno poi però c'è il problema che bisogna vedere chi ha la possibilità poi di fare la Serie B esatto perché poi questa è un'altra Serie B nazionale la Serie B nazionale vediamo allora direi di chiudere l'argomento Serie B direi di aprire l'argomento Serie C andando Ale fai attenzione andando a vedere per primo il girone B quello dove è situata la menzana c'è una razza poi lo scoprirete tra poco andiamo con i risultati eccoli qua vedete i risultati c'era il gran derby di Firenze tra Pino e Sancat ha vinto Pino era lo scontro al vertice poi Monsummano batte la Toscana Food la menzana batte la Synergy Pontedera cede a Pisa contro il Cus e Fides coglie una importantissima vittoria espugnando Carrara ricordiamo sempre le bellissime grafiche di Basket World Life e della sua consorella Toscana Basket World Life andiamo a vedere anche la classifica qua abbiamo anche lo spottino la classifica della Serie C è offerta da Cosmo Care servizi sociosanitari assistenza domiciliare in Toscana eccolo qua la classifica vedete in testa due squadre Menzana e Pino poi a 18 a 16 la Sancat a 14 la Juve Pontedera e la Toscana Food a 12 Fides e poi via via tutte le altre un campionato caratterizzato da grande equilibrio in testa ci sono due squadre prego Alessandro di perfezionare il collegamento Skype se ce l'abbiamo con il presidente della squadra che in questo giornale è prima in classifica vale a dire la più blasonata di tutte le squadre del campionato vale a dire la Menzana Siena ce l'abbiamo? ok perfetto allora nell'attesa dobbiamo rispondere a un messaggio che è arrivato addirittura prima di cominciare di questo vi ringraziamo talvolta qualcuno si porta avanti col lavoro adesso lo recuperiamo lo leggiamo era riferito al bellissimo campionato di Pino Marco poi lo leggiamo Pino sta facendo un campionato superiore ad ogni perose aspettativa sì 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 assolutamente una delle squadre se non la squadra rivelazione sicuramente di questo girone squadra composta da ragazzi giovani che sono cresciuti al Pino più Castelli Marotta che però ecco l'ho recuperato così campi in tema buonasera sono un tifoso del Pino saluto tutti facendo i complimenti al grande coach del Re vorrei un vostro giudizio su coach Miniati che sta costruendo un gruppo fantastico e che del derby di sabato ha fatto un alto capolavoro tecnico con la difesa del giovane Balestra che ha quasi annullato un top player come Simone Betti si firma Tom il nostro amico lo ringraziamo perché ribadisco lo ha inviato addirittura prima che iniziasse la trasmissione prego Marco no sono convinto che Pippo Miniati sta facendo un ottimo lavoro perché altrimenti il Pino non sarebbe lì è frutto chiaramente suo e del gruppo che ha costruito e di come stanno in campo ragazzi giovani responsabilizzati in questa categoria e con tante occasioni di poter giocare e segnare per adesso io ritengo sia la sorpresa di questo girone sì assolutamente mentre Andrea o Federico gestitevi che la menzana fosse lì al di là del del fatto che non venissero denotate tante ambizioni da parte della società ci poteva stare no? sì sicuramente sì poi tutti sperano che possa ritornare su perché onestamente la menzana deve ritornare ad avere un palcoscenico che gli compete magari anche più in alto però quelli sono dopo altri discorsi però sicuramente fare un salto in categoria sarebbe importante assolutamente sì Federico è un campionato un girone questo nel quale c'è grande equilibrio contrariamente a quanto poi vedremo nell'altro sì però secondo me le prime tre posizioni sono consolidate anche se manca tantissimo sono anche Sankat secondo me sì perché sono quelle che le ho viste tante ripartite sono lì perché tante ma perché mi piace la pallacanestro come piace a tutti quanti gli ospiti e il conduttore che sono in questo studio e secondo me sono le tre squadre che sono lì perché lo meritano poi dietro c'è una grande c'è un grande equilibrio però Fides che poche settimane fa proprio in questo studio dicevamo che ha un roster è una potenzialità per recuperare terreno ma la situazione era veramente molto molto complicata perché era indietro era parecchio indietro perché doveva recuperare quattro punti su tre squadre in poche settimane è arrivato da due punti da quella zona lì e lo vedo messo meglio come potenzialità rispetto a Ponte d'Era che è un'altra squadra che sta facendo benissimo al Don Bosco che sta facendo benissimo nonostante sì torniamo al derby tra Pino e Sancat per Pino 21 di Corradossi 17 di Castelli che secondo me Marco e correggimi se sbaglio è l'architrave di questa squadra 15 di Forzieri dico bene su Castelli sì no assolutamente è quello che gli dà chiaramente sicurezza è un punto di riferimento poi 19 di là per Sanca di Baldasserone 12 di Berti e così via poi dicevamo riusciamo a perfezionare il collegamento Ale? se non ce la facciamo lo chiamano al telefono neanche al telefono? adesso ti giro il numero e dicevamo allora teniamo in sospeso il discorso Menzana Fides ha vinto a Carrara 68-64 la seconda vittoria di fila quarto capo per Carrara 20 di Orsini 19 di Benini 17 di Vignale e qua mi fermo perché stiamo parlando di tre giocatori Andrea non dico illegali ma soprattutto i due lunghi quasi per queste categorie no Fides è una buona squadra costruita per far bene l'oggio che ha avuto parecchi problemi fisici e questo ha condizionato la partenza di questa squadra però come diceva Federico prima se recuperano il roster al completo è un roster che potrà dire la sua in maniera importante assolutamente sì e poi arrivare di rincorsa non fa mai male no Federico in generale sì sì si riescono a trovare oltre che la condizione fisica per i tanti infortuni che hanno avuto e la programmazione che avevano fatto perché sapevano che c'era qualche ragazzo che sarebbe rientrato al campionato in corso ma entra anche la parte del morale della fiducia e tutto il resto venire da dietro e riuscire a entrare nelle prime quattro è un bel è un bel andare per la seconda parte del campionato si è fermato invece il Don Bosco terza sconfitta consecutiva a Monsummano che dopo averne perse tante ne ha vinte due di fila è stato secondo le parole di Barilla pessimo l'approccio del Don Bosco mentre ottima la prestazione di Monsummano da ricordare che nel Don Bosco mancava Ciano di là era assente Danesi Monsummano porta 9 uomini al referto 19 di Meacci 18 di Tomei e 10 di Manetti di là Tartamella 20 11 Deri 10 Lampri Don Bosco solita fucina di talenti si Don Bosco solita fucina di talenti si assolutamente continua negli anni a produrre giocatori interessanti è sempre stato così l'assenza di Ciano chiaramente pesa e pesa tanto perché è un ragazzo di talento e che sta crescendo molto in questi ultimi anni loro hanno poi anche il doppio impegno con quel campionato alle 19 eccellenze e quindi è un qualcosa che ti può possiamo aver pagato siamo quasi a metà stagione anzi forse anche un pochino più là di metà stagione per quanto riguarda la stagione regolare possono aver pagato qualche le troppe partite perché con Menzana hanno perso avevano quasi vinto hanno perso proprio con un canestro di Tognazzi mancavano 20 secondi con Pino e Monsummano sono apparsi un po' in calo può essere di peso da questi tanti partiti secondo me è possibile anche perché comunque hanno trasferte lunghe perché hanno sei romani nel girone non è semplice magari giocare la domenica ripartire lunedì tornare allenarsi a volte un po' di riposo servirebbe esatto sono ragazzi che poi studiano e vanno a scuola pure non è semplice mettere tutto insieme essere sempre al massimo della forma e pronti a essere e essere pronti poi per giocare ogni partita al 100% è normale devo parlare su Monsummano ma le dici tu Andrea è una squadra che secondo me all'inizio era non dico una delle favorite ma una delle ozzate del più accreditate poi è partito piano piano lentamente anche per i tanti infortuni adesso è stata una galla sicuramente è tardi per acciuffare una delle prime quattro piazze però Monsummano può dar fastidio a tante assolutamente quando hai tanti infortuni così condiziona tutta la preparazione gli allenamenti perché magari non so quanti allenamenti farà Monsummano però se è una squadra di Serie C normale magari può fare 3-4 e magari non li fai con roste completo condiziona già parecchio la partenza poi si è un po' persa anche Ponte d'Era seconda sconfitta di fila ha perso a Pisa 66 a 59 il Cusse che in casa ha costruito gran parte della propria classifica ha vinto 4 partite su 6 e in trasferta ne ha vinta una soltanto Ponte d'Era non è stata mai in vantaggio e qui pesa secondo me Federico tanto l'assenza di regoli assolutamente sì è un periodo un po' complicato per Ponte d'Era ma ricordiamoci che fino ad oggi ha fatto veramente bene benissimo oggi è la serata dove nominiamo le sorprese Ponte d'Era è una di queste assolutamente al di là di queste due sconfitte sta facendo veramente bene tra l'altro per quanto riguarda le prestazioni individuali 19 di Carpitelli 16 di Siena 11 per Quarta per Cristiano Forti per Ponte d'Era 14 di Giulio Maltomini 11 di Lemmi e 11 sempre di Andrea Maltomini Maltomini noi di solito siamo soliti nominare i giocatori che vanno in doppia cifra questa volta facciamo un'eccezione per Bubamintè che la scorsa settimana è stato protagonista di un episodio veramente molto molto disdicevole ne ha messi 9 in 27 minuti fortunatamente dopo quello che era successo aveva detto che non voleva più giocare fortunatamente è tornato in campo e l'ha fatto anche bene ha dimostrato anche carattere perché comunque non è semplice sono contento che poi alla fine lui sia tornato in campo abbia deciso di continuare e penso sia un bel segnale anche per quelli che non hanno ancora capito che c'è un tipo di comportamento che non deve essere tenuto né sui campi di basket ma da nessuna altra parte nei confronti di nessuno c'è un messaggio che ci riporta la serie B buonasera sono Andrea Dallivorno volevo dire che come singolo e Caserta ha due o tre grandi giocatori ma non c'è l'amalgama di squadra come riferito dal presidente casertano a fine partita dai una pillolina per il nostro amico che sicuramente non sono gli eredi di gentile e sposito la squadra come rossa non è male però non basta i nomi a volte bisogna mettere anche una chimica di squadra e anche gente che magari si possa trovare bene doveva giocare a me ieri mi sono piaciuti zero e creare un gruppo che abbia voglia di stare insieme e giocare insieme assolutamente sì Alessandro ce la facciamo a perfezionare il collegamento li proviamo anzi no facciamo così andiamo intanto a vedere quello che è successo nel Girone A noi siamo andati al primo al B per dovere di ospitalità nei confronti del Presidente della Menzana vediamo se lo recuperiamo se no sarà per una prossima volta adesso andiamo a vedere i risultati del Girone A Ale eccoli qua qui noi abbiamo Spottino se qualcuno ci vuol dare una mano c'è spazio per sponsorizzare questa classifica allora vedete la vittoria di Prato della gruppo AF Prato a Livorno contro l'US di Livorno poi Costone vince ma qua non è una novità anzi stravince a Bottegone la bella vittoria poi di Sansepolcro nello scontro diretto con Montevarchi Val di Seve batte Fucecchi 83 a 79 e poi facile San Vincenzo ad Alto Paccio riposava l'Union Basket Prato poi andiamo a vedere anche la classifica qua abbiamo lo spottino la classifica della serie C Girone A è offerta dal gruppo Visvederi innovando oggi per la salute di domani eccola qua tramite Skype perché dobbiamo correre con il Presidente della squadra più blasonata di questo campionato e non solo di questo campionato vale a dire la mensana Siena il Presidente Francesco Frati è qua con noi a Toscana basket buonasera Presidente buonasera a tutti grazie ancora per l'invito no non è che se la leva con una telefonata deve venire qua vero lo so lo so ma ho promesso e quindi prima o poi l'arrivo bene ovviamente lo sa che ci deve portare una maglia vero ovviamente certo allora bando alle ciance Presidente grazie di essere qua con noi voi siete la squadra più blasonata dicevo poco fa dell'intero campionato quanto pesa e quanto è di responsabilità esserlo ovviamente la storia del nome Bersana si porta dietro rappresenta un senso importante che i giocatori portano sulle maglie ogni fine settimana ogni partita però è altresì vero che questo peso è che abbiamo un seguito un gruppo di tifosi che ci serve sempre assiduamente che aiuta i giocatori a sopportare questo peso in maniera effettiva direi anche quest'anno abbiamo fatto 350 abbonamenti abbiamo 700-800 persone al palazzo ogni partita e questa spinta che ci viene da nostri tifosi i giocatori la sentano e come dicevo prima è un modo per loro per fargli sentire un po' meno il peso della maglia che portano senta Presidente voi siete partiti tra le favoritissime del campionato adesso siete in vetta al girone quali sono le aspettative da qua alla fine quanto meno della stagione della prima fase meglio siamo rimasti ovviamente molto contenti e anche un po' sorpresi del modo con cui la squadra ha disputato la prima parte del campionato riuscendo a conquistare molte partite pretendone un paio anche in maniera rocambolesca devo dire disputando una prima parte di regular season oltre le aspettative a questo punto anche in città le aspettative sono cresciute direi che il nostro obiettivo primario da un punto di vista sportivo è quello di provare a continuare in questo trend positivo e a raggiungere quella posizione nei primi quattro posti che come tutti sappiamo sostanzialmente consente di evitare la retrocessione ma noi abbiamo un obiettivo societario ancora più importante che è quello di rafforzarci e consolidarci noi siamo come si diceva all'inizio una società dalla grande storia dal grande prestigio ma tecnicamente la società è giovane l'abbiamo attivata questa estate e quindi stiamo muovendo i nostri primi passi abbiamo bisogno di rafforzarci da un punto di vista organizzativo abbiamo bisogno di rafforzarci da un punto di vista finanziario perché questo rafforzamento rappresenta il modo per costruire le basi per poi crescere da un punto di vista sportivo certo l'entusiasmo che i risultati ottenuti da ragazzi sul campo sta generando in città attira l'attenzione di tanti appassionati e tutto questo valore non può che farci piacere Senta Presidente mentre parlavi è arrivato un messaggio vorrei chiedere al Presidente della Menzana come ci si sente essere la terza squadra di Siena aggiungo io essendo così blasonati io mi sento una delle tre squadre di Siena ho piacere che le tre squadre di Siena nei campionati attuali stiano facendo molto bene se non sbaglio sia la Virtus che il Costone che la Menzana sono tutte nei primi posti dei loro rispettivi campionati sono proprio prime appunto e questo devo dire da sportivo senese non può che farmi un grande piacere non vedo non noto e non soffro la competizione sono contento che stiamo facendo bene perché credo che Siena abbia bisogno di tornare su palcoscenici ancora più importanti però un bel derby nella seconda fase col Costone non è che vi dispiace come dicevo non ci dispiacerebbe perché sono abbastanza convinto che il Costone riuscirà ad entrare nelle prime quattro questa novietà significa anche per noi essere arrivati nelle prime quattro quindi benvenga il derby non il Costone peraltro i due derby che disputavamo anzi i sei derby che disputavamo lo scorso anno quando c'era anche la Virtus fecero segnare sempre un grande numero di appassionati al palazzo e questo non può che farci piacerebbe Senta Presidente a livello di roster pensate di rimanere così o di fare qualcosa? Il gruppo sta lavorando molto bene sta funzionando molto bene come gruppo e non soltanto come somma di individualità pertanto in questo momento noi lavoriamo bene con il gruppo dei ragazzi che abbiamo e ci guardiamo intorno per carità ma devo dire che rompere gli equilibri potrebbe anche essere più pericoloso del possibile miglioramento che potrebbe generare Senta Presidente la domanda è anche un po' scivolosa voi siete l'ha detto lei una società giovane ma siete struzzolati già per palcoscenici più importanti di questo o serve ancora del tempo? proprio parla al di là della scuola a livello dirigenziale e societario serve ancora del tempo è il tempo che noi speriamo ovviamente di accorciare il più possibile ma serve ancora del tempo poi i risultati sportivi ovviamente seguono il loro corso noi cerchiamo di essere pronti a qualsiasi evenienza ma il nostro obiettivo come dicevo all'inizio è quello di rafforzarci per crescere gradualmente senta l'ultima ringraziandola davvero di essere stato qua con noi e rinnovandola l'invito a essere presente in studio a fine stagione sarebbe contento se? a fine stagione saremmo contenti se raggiungiamo i primi quattro posti in questa prima fase e se possiamo disputare la seconda fase in tranquillità magari toglierci anche qualche soddisfazione aggiungo io magari nel derby anche in quello ovviamente bene ringrazio davvero di essere stato con noi il presidente della menzana siena Francesco Frati davvero grazie di essere stato qua ospite a Toscana Basket grazie a voi buona serata a tutti grazie a lei grazie e tanti auguri di buone feste grazie grazie l'aspettiamo anno nuovo grazie una società che deve ancora strutturarsi al meglio che però è partita con le basi giuste no Marco prima in classifica ma secondo me non è tanto il fatto di essere prima in classifica ma fa sensazione i 250 abbonati a Siena comunque c'è sempre stata voglia di tornare a alti livelli le squadre sono seguite c'è possibilità anche per più società di portare avanti i progetti anche importanti e poi se scendiamo ancora in DR1 ce ne sono una marea di squadre che si hanno in DR2 pure c'è un movimento che forse forse anche migliore di quello che c'è a Livorno no ma è anche figlio del fatto che ci sono stati tanti anni di successi squadre che giocavano in Italia e in Europa e vincevano questo c'è sempre stata passione a Siena come c'è stato a Livorno per anni a volte sopita e poi riesplosa con i derby da 8000 posti così come a Montecatini sono quei centri dove la pallacanestro diciamo non muore mai e al limite cova sotto la cenere sempre qualcosa e si vede anche dai risultati che il settore giovanile che c'è a Siena dal movimento veramente tanti ragazzini anche squadre competitive e competitive sul presente ma soprattutto con tanti prospetti interessanti per il futuro quindi c'è tanta passione sono arrivati mentre il presidente parlava due messaggi uno dice sono un tifoso della Virtus la prima squadra di Siena è la Virtus un altro il derby lo vinciamo noi del costone questo per far capire in una trasmissione televisiva quindi quanto seguito c'è a Siena perché parla il presidente della menzana arriva un messaggio di un tifoso del costone e di uno della Virtus ma noi dobbiamo tornare al girone A perché dobbiamo dare un'occhiata anche a quel girone si oppure velocemente qua la notizia non è la vittoria di costone Marco perché costone vince sempre 95 a 62 a bottegone 31 di Nasello e nonostante Zeleni ha giocato 6 minuti per un problema alla caviglia 47 a 27 all'intervallo lungo beh questa è una squadra che secondo me potrebbe giocare in categoria superiore Marco penso proprio di sì faranno loro i debiti scongiuri perché è dato come scontata la loro vittoria però è chiaramente una squadra fuori categoria un giocatore di Nasello non esiste nessuna a Livorno 85 a 77 una partita nella quale Prato era partita bene poi l'US ha raggiunto la parità e Prato l'ha vinta nell'ultimo quarto abbiamo anche qua le immagini grazie alla nostra redazione sempre precisa e puntuale da dire che l'US era senza Iardella per Prato mancava Smecca secondo K.O. di fila per l'US che così si allontana dalle prime quattro mentre Prato continua anzi torna a vincere seconda vittoria consecutiva per l'US 23 di Pantosti 19 del Monti 17 Bernardini 10 Bertolini di là 5 in doppia citra con 16 di Casella e Magni 14 di Verdi 11 Salvadori 10 di Pacini Andrea Prato è la squadra assieme a Costone dall'organico forse migliore no? Sì è partita con ambizione ha avuto problemi fisici con infortuni importanti sicuramente è una squadra che andando avanti penso potrebbero fare anche loro qualche movimento in entrata il direttore sportivo Scarcelli me lo ha escluso però già il fatto che me l'abbia escluso fa pensare esatto quando escludo no hanno già chiamato no però salutiamo salutiamo l'amico Scarcelli che ho visto sono andata a salutare proprio alla partita contro l'US per competere per competere logicamente per vare a vincere probabilmente ho bisogno di anche perché hanno perso Smecca che ho giocato nell'equilibrio importante poi invece l'US di Vordo Federico non riesce proprio a ingranare adesso l'approccio meglio l'obiettivo prima e quattro è se non impossibile quanto meno difficile sembra un po' lontano guardare la classifica anche qui le prime tre sembrano un po' staccate soltanto un posto a disposizione però anche questa partita qui contro veramente una correzzata non ha giocato male a Cavaliardella e nonostante questo secondo me l'US non ha giocato male anche le ultime sconfitte vengono da un campionato veramente qualitativo di livello alto perché non stanno giocando per niente male anche con Prato la potevano portare a casa ma riuscire a vincere queste partite è veramente complicato chi invece sta facendo un gran torneo è San Vincenzo che al di là del fatto che sia una matricola è seconda in classifica stavolta ha passeggiato Alto Paccio primo tempo 35-13 che la dice lunga per San Vincenzo è la quarta di fila ha portato coach Baroni 6 uomini in doppia cifra addirittura 3 oltre 20 Zanassi 23 Bianchi e Persico 21 di là Baroncelli 20 e 19 di Barbarosa San Vincenzo sta facendo un campionato straordinario anche se è vero che è un roster niente male Bianchi Persico Zanassi no Marco? è un roster importante intanto saluto Camillo Edo è un roster importante stanno facendo bene però dalla loro hanno chiaramente oltre che l'esperienza il talento la fisicità Edo Persico a questo livello continua a spostare sì ma assolutamente sì ma anche anche e lo so e lo so ma andare via tutti e lo so però no sta facendo bene ai giocatori per poterlo fare e sono contento anche per loro perché sono amici San Vincenzo vede l'obiettivo prima e quattro quell'obiettivo per il quale lottano anche Sansepolcro e Montevarchi nello scontro direto l'ha vinta Sansepolcro che è tornata al successo dopo due K.O. di fila terzo invece K.O. esterno per Montevarchi e qui Federico squilla un campanello d'allarme nelle orecchie di Riccardo Paludi potrebbe essere potrebbe essere ma manca talmente tanto in un campionato così equilibrato che secondo me c'erano tutte le possibilità per riprendersi essere competitivi e combattere fino alla fine per Sansepolcro 4 in doppia cifra San 19 uno bravino anziché no Spillantini 16 Bazzani 14 Milanovic Ungi 11 di là addirittura 5 in doppia cifra con Pedicone a 18 Sansepolcro una squadra magari un po' corta anche se adesso con l'ingresso di Cipriani ha allungato un po' le rotazioni Andrea ma da matricola può lottare fino alla fine per alle valli tra le peste sta facendo molto bene sta facendo molto bene la matricola secondo me hanno lo spirito giusto e l'entusiasmo per provarci e poi per concludere l'escursus sulla Serie C parliamo della vittoria di Valdiseve a Fuscecchio 83 a 79 una partita equilibrata come dimostrato dagli 8 cambi di vantaggio e dalle 4 situazioni di parità per Fuscecchio è un po' il solito ritornello Fuscecchio lotta per tutta la partita e poi in volata la spuntano gli avversari stavolta Valdiseve certo dispiace vedere una squadra giovane come Fuscecchio ancora a quota 0 no dispiace perché comunque più volte ci hanno provato ci sono andati vicini arrivano sempre gli manca il centesimo per fare il classico euro esatto quello però è qualcosa che può diventare pesante poi arriva la sindrome direi di sì perché poi non è facile chiaramente rimettersi lì e riprovare la stessa sensazione anche magari la domenica successiva non è una situazione facile ma devono continuare a lottare assolutamente sì invece Valdiseve con questa vittoria Federico e poi concludiamo vede uno spiraglio per arrivare nelle prime quattro sono a meno due la compagina di Pescioli è una garanzia a questi livelli assolutamente si stanno riavvicinando e credo che faranno bene fino da qui alla fine tra l'altro questo campionato torna in campo già mercoledì prossimo così come il campionato di serie B interregionale noi siamo arrivati veramente alla conclusione mando al ristorante Andrea Forti dopo sei ore di macchina me lo merito sei ore di macchina per venire a Toscana Basket quindi se arriva l'autovelox la paga la direzione di 300 vero? dove eri? ero a Scafati a vederti ti sei visto il derby con la vittoria di Scafati terza sconfitta consecutiva per Napoli no? sì no no è stata una bella partita sono altre fra l'altro ha giocato molto bene il nuovo stranello di Scafati sì molto bene allora siamo veramente in conclusione l'ultima risposta che mi dovete è il messaggio che ci manda sempre il nostro amico chi vince lo scudetto solo un nome perché devo chiudere Brescia sarebbe molto bello per il movimento io dico di nuovo Virtus Bologna non hai cambiato no no vediamo Federico se hai cambiato niente figuriamoci Virtus Bologna però Brescia mi piace che è solitaria in vetta alla 1 bene siamo arrivati veramente in conclusione ringrazio di essere stato con noi Andrea Forti agente giocatori nonché padre del premio che della Libertas Francesco ciao Andrea ciao grazie a tutti da te saluto tutti e faccio gli auguri assolutamente buon Natale fai la trasmissione lunedì prossimo no lunedì prossimo va bene va bene la passione ma insomma la faccio col bambino andiamo l'anno nuovo andiamo ringrazio di essere stato con noi il coach da Giamma Montecatini Marco Del Re grazie a te Ale un saluto a tutti e buon Natale e buone feste ringrazio Federico Delia di essere stato qua dirigente in attesa di qualcosa vediamo qualche telefonata è asquillata possiamo dirlo dai vediamo auguri a tutti eh guarda guarda come la punta in calcio d'angolo no calcio d'angolo alla grande auguri davvero a tutti e grazie ancora per questo invito per questa trasmissione che è veramente un fiore all'occhiello per chi ama la palacanestro in Toscana cerchiamo di fare il possibile è stato un piacere averti qua con noi allora noi innanzitutto vi diamo prima di tutto gli auguri di buon Natale buon fine anno miglior anno nuovo da parte del sottoscritto Alessandro Guerriali di tutta la redazione sportiva e non di Telecentro vi ringraziamo per il successo che decretate settimanalmente di questa trasmissione davvero grazie 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 non mi resta che farvi gli auguri darvi appuntamento all'anno nuovo perché la prossima il prossimo lunedì è il Santo Natale quindi diventa difficile essere qua con voi sicuramente però seguiremo quello che accade sui parquet di tutta la Toscana ritorneremo l'8 di gennaio quando andremo a parlare di una partita che non è in badale vale a dire il grande derby di Livorno tanti saluti da parte di Alessandro Guerrieri ci vediamo anno nuovo tanti 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 auguri vorrei ringraziare prima di chiudere tutti voi che ci seguite i nostri sponsor e l'amico Stefano Regoli per le belle grafiche che ci fornisce auguri 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 grazie a tutti grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.